Avanti ancora in Coppa Italia, la Virtus Francavilla strapazza in trasferta il Francavilla-Ensini vincendo con un secco 5-1. Gli uomini di Ciro Ginestra hanno confezionato un doppio vantaggio nel primo tempo con Gionai e Mbaie. Nella ripresa la Virtus ha preso in largo trovando il Tris con buona volontà e dilagando grazie al clamoroso otto gol di Gentile quasi da centrocampo e al sigillo finale di Diop al sessantesimo. Nel finale il Francavilla-Ensini ha poi trovato l'inutile rete della bandiera realizzata da Pellegrini. Una risposta importante a tutti coloro che avevano criticato il calcio mercato della Virtus Francavilla soprattutto per quel che concerne la zona offensiva. Saluta la Coppa Italia invece il Fasano che crolla in casa 0-4 col Matera in gol per i Lucani Sicurella, Pirola, Bursio e Napolitano. C'è decisamente molto da rivedere per i bianco-azzurri fasanesi che appaiono ancora incompleti e dovranno necessariamente approfittare di questi ultimi 13 giorni di calcio mercato di Serie D. Ha riposato invece il Brindisi già eliminato la scorsa settimana dalla Coppa Italia nella gara giocata contro il Zambiase. In settimana gli uomini di Monticciolo saranno impegnati nell'amichevole con la primavera della Lazio prima di fare il proprio esordio in campionato.